...bandiera, non solo della nostra amministrazione, ma di tutta la nostra comunità. Lo devo dire a Rossella che la cultura cerignola funziona, siamo bravi. ...con i prodotti chilometro zero di Terrao, vede bene Michele Cianci. Ma è un modo per dare le energie per aspetti diversificati, ecco, per quanto che ci sono anche dal punto di vista, se vogliamo, professionale. Da circa due anni a tutti gli aspetti di quella che è l'ambiente culturale. Nel senso che se da un lato ovviamente... ... ... ... ... ... ... ...